Ciao a tutti da Svideon74, siamo qui sempre sul mio canale, ma va, se siete entrati qui è ovvio che il mio canale, però sono in compagnia di un grandissimo che è Nikos, che in questo caso è Nikos Walker, sempre sulla serie di Elseworld, e niente, procediamo, andiamo avanti in questa missione, faremo una missione che si chiama Animali Sacri, infatti non mi ricordavo più, speravo che lo dicessi tu, andiamo a scuartare i tronchetti della finita, ecco sì, infatti, tronchetti, 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 stavo spiaggendo, ok, andiamo, andiamo avanti sono forti questi, d'attento, c'è una mega gallina, mega gallina, aiuto, aiuto, il cinghiale mascherato, no, il cinghiale mascherato, tronchetto, 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 qua c'è il vetro indistrezzibile, stavo saltellando, ma si rompe sto cosa? non riesco a rompe? sì, aspetta ah, ok, sembrava quasi in franzo tronchetti, tronchetti, ok guardate Nikos come bravo nell'arte di spadare c'è uno lineato che è scorreggiatoli, aspetta, ma guarda che esce il fumo da, esce il fumo da dietro, davvero dai, si vede, il tipo di carico il porcostino verde, no? no porcostino verde dove gli dai porcostini verdi solo lui poi era anche molto grosso eh, ma un porcostino dove sei tu? sono qua sopra, tranquilli sei lì nato, ecco, vengo da te sì, ma la contraballa c'è per terra, non lo so io eh, prendi la terra, insomma devo stare sempre io a pulir per terra ma c'è il spazzo eh, sì facciamo tutti dei sinonimi per non dire allora allora ho preso il sacchetto adesso passiamo dall'altra parte attacco, attacco un porco di legno ecco, siamo penetrati andiamo let's go baby let's go siamo i più forti alle ali ragazzi ragazzi, ci dovete giocare perché è divertente sto gioco perché è divertentissimo sì è bello da giocare insieme agli amici eh, appunto, in corpo è molto esaltante eh, appunto, in corpo è molto esaltante mamma mia monkey king no, è goku hai goku ti distrugge la luna goku, attenzione esatto volato quello, non so dove ma da monkey kong partiamo guardami come sono furioso come lascio le scariche elettriche aspetta che io sono indietro aspetta, vengo ecco ecco qui ora ti vedo aiuto ma mia sì, si ha distrutto sì orecchio bastardo eh beh, è un monkey kong ma questo videogame come si inebria a killarlo morto? mi sembra morto ma tu sei diverso ti vedo ti vedi furioso? fiammante spumeggiante sì, ma il vero mostro è dietro questa porta aiuto paura sì, ma io c'ho ancora premi CTRL dopo vedi che ti trasformi anche te adesso magari stai cercando CTRL non so dov'è no, l'ho visto, l'ho visto dov'è vai, prova wow visto? yeppala mi fuoco anche te ma cos'è questo? è un mini pony gigantesco? ehm è un mini pony salta, salta, salta aiuto ma dai ma è gigantesco questo coso è troppo grosso possiamo buttarlo giù visto? e va distrutto ahaha il mini pony è morto l'abbiamo distrutto che coppia che coppia che coppia noi siamo forti veramente adesso ti spado anche a te eh non lasciarti ingannare dalla mia giovane età senti cosa dice sto gioco ha ragione sto gioco vuto A bellissimo wow ok e si procede adesso dovremmo avere un item che ci rafforza ma dobbiamo guardare quella k? no no, aspetta dobbiamo spingere l l animalisacris completa quest ok et voilà cronogo le giue le giue sono fette la battaglia era inevitabile grazie per occuparti di questa cosa spero che presto riusciremo a riavere l'eldrit cioè vuole vuole un coso dritto vuole esatto l'eldrit si trova ancora nelle mani dei briganti ma nessuno sa dove siano fuggiti ciò significa che nei pressi del lago di Noaz ci sono membri della banda di Benders che non sono ancora riusciti a ritirare lo so io dove sono solo che questo qui non possiamo farlo insieme dovremo non vederci ah si ma basta che ne uccidi uno ah basta che ne uccidi devo uccidere uno si sono sono verso il nuovo villaggio quello dove non possiamo andare ah ok allora vado avanti saltiamo questi andiamo avanti io salto tutti e vado avanti allora qua non si può entrare nel coso sei no allora il brigante torna indietro torna indietro ah ho capito questi qua con il punto schermativo esatto quelli con un mega bastone in mare si cioè non diciamo dopo si vede è un bastone ahia ma sono potenti sti cosi se te che sei debole è diverso ma vanno a ralentatore però meglio si sono lenti normale più grosso sono più hanno la lentezza si però mi hanno saccato la testa ahia ah avete missione compiuta si si e abbiamo una nuova spada abbiamo lama del gigante rosso ollie allora missione compiuta facciamo l dungeon tracce completa quest ok e possiamo andare al nuovo villaggio questo è pieno del fuga diamo un'occhiata ma quanto pare Bender si è fuggito al castello di Helder il villaggio di Helder si trova nei pressi di un incrocio importante da lì si riparte le grosse strade che conducono in diversi villaggi vabbè basta basta ok ok ti sto aspettando dentro il villaggio villaggio dobbiamo tornare villaggio allora devo tornare no no quello nuovo ah quello nuovo si si ho capito tutto tutto devo spiegargli ragazzi è un parto podalico però vedi vedi che bambino riesce eccolo come posso aiutarti mi ha mandato a Huygar dal villaggio Ruben mi ha detto che sai dove posso trovare benderci il bandito ah Huygar mi ha parlato molto di te me lo uccido mi ha piacere conoscerti entra a bere una tazza di te a me piace il te allora non sono davanti a te si trova molto volentieri ma sto leggendo vabbè dai andiamo avanti va bene va bene ecco si si ti vedo stavo leggendo dove sta andando seguimi si salta lagga sta laggando no ci sono un sacco di persone ah per quello che lagga ebbè c'è una tipa c'è una tipa è domenica ma cosa no non importunarla poverina ci possiamo parlare zeta si ma no non posso parlare niente sta solo negozio follow me si video si ok ok dove l'ho perso sono qua sono qua negozio alchimista gimo gimo dov'è oh la sta laggando in maniera incredibile dove sta andando a destra a sinistra vieni vieni vengo 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 dov'è 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 accidente come sta laggando adesso è sparito ok non è qui ok seguimi dove sta andando ma io ti volevo dire una cosa qua il minutaggio è allo scadere io direi questo video lo finiamo qua si va bene quindi ciao a tutti da Svideogame e dal grandissimo Nikos ciao e il prossimo video di S-Word si è caricato nuovamente sul canale di Nikos ciao a tutti ciao 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 ciao